Il dragone cinese mette le mani su un terzo dell'economia e della popolazione globale, dando un altro scacco all'amministrazione statunitense nel delicato momento del cambio di testimone alla Casa Bianca. È l'effetto del più grande patto di libero scambio del mondo, siglato da noi da 15 economie dell'Asia e del Pacifico, che esclude gli Stati Uniti. La firma del Regional Comprehensive Economic Partnership, in un summit regionale, è un ulteriore colpo all'accordo promosso dall'ex presidente americano Barack Obama, dal quale il suo successore, Trump, è uscito nel 2017. L'RCEP potrebbe rafforzare la posizione della Cina come partner economico con il sud-est asiatico, il Giappone e la Corea, mettendo la seconda economia mondiale in una posizione migliore per dettare le regole commerciali della regione. L'RCEP potrebbe aiutare Pechino, scrive il Sole24ore, a ridurre la sua dipendenza dai mercati e dalla tecnologia d'oltremare, un cambiamento accelerato da una frattura sempre più profonda con Washington. Nel patto ci sono pure la Corea del Sud, l'Australia e la Nuova Zelanda. L'intesa rappresenterà il 30% dell'economia e della popolazione globale e raggiungerà 2,2 miliardi di consumatori. A Trieste si guarda con interesse a questa intesa, in attesa di capire se le navi del colosso cinese Cosco, sulla nuova Via della Seta, arriveranno in banchina anche nella città della Bora.